Questa se l'abbiamo raccolta noi non la raccoglieva nessuno, abbiamo fatto anche un'opera utile, altrimenti quest'uva stava qua e nessuno la raccoglieva. Guarda che bella. E quanto vale? Questa vale un pranzo, dopo di questa. Ma mangiata qui poi a Roguti? Questa è un'uva arcaica, questa l'aveva mangiata pure a Omeiro, madonna.